Premi il tasto iscriviti attivando anche la campanella per non perderti tutti i prossimi video Ben ritrovati amici Riprendi il nostro festival con una eccezionale attrazione appositamente preparata per il nostro Golden Circus Alcuni istanti di preparazione perché vedrete una prestazione particolare e pericolosa nello stesso tempo Ed ecco Pisek, la tigre cavallerizza Ecco una bella passeggiata di Ildico Caroli e la tigre Isè Riprendi il nostro canale L'ungherese Doner Caroli deve contare sulla fiducia che la moglie ha nelle sue grandi doti di domatori di tigri Per eseguire questo incredibile e pericolosissimo esercizio E' il cavallo Il cavallo di chi si fiderà? Del domatore o della tigre? Vedete, nemici in natura e così amici sotto la tenda di un circo E' proprio vero che questo è un luogo magico Un luogo dove l'amicizia trionfa sempre Ed ecco la conclusione dell'esercizio Bravissima Iseg e bravissimi i caroli Grazie a tutti 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 Un ultimo caloroso applauso per i bravissimi Caroli e la tigre ISEC.